eccoci, allora gli agretti stanno bullendo e poi ho trovato una spigola pazzesca perché ha le uova e io le ho fatte eccoci, allora gli agretti stanno bullendo e poi ho trovato una spigola pazzesca perché ha le uova e io le ho fatte così, vediamo se le faccio come le fate anche voi ecco, le ho messe praticamente la spigola, la faccio semplice anche perché non avevo tante altre cose le uova le ho aperte e le faccio semplicemente andare vicino alla spigola altrimenti mi dicono che andrebbero anche bene su una bruschetta cotta a parte però io in questo caso le metto così magari qualcuno di voi ha sentito altri modi per cucinare però è bellissimo quando la spigola le uova perché è un peccato buttarle quindi cucinatele e hanno quel sapore davvero unico ah tra poco, vi faccio vedere il resto intanto la maionese non abbino qui, l'abbino ad un'altra cosa è un'altra cosa Grazie a tutti